E' morto nella notte Salvatore Rina, il capo dei capi di Cosa Nostra, aveva 87 anni, da 24 era detenuto in regime di 41 bis, quello del carcere duro, recentemente aveva subito due interventi chirurgici, la CEI esclude la possibilità di un funerale pubblico, il fratello del giudice Borsellino Salvatore commenta molte persone gioiranno perché Rina morendo non potrà più parlare. Nato a Corleone fu condannato la prima volta a 18 anni per l'omicidio di un suo coetaneo, fu lui a dichiarare guerra allo Stato negli anni 80 dando vita alla stagione delle stragi, culminata con gli omicidi di Salvo Lima e dei giudici Falcone e Borsellino. Il 15 gennaio del 1993 l'arresto, forse grazie al tradimento di un fedelissimo 26 le condanne all'ergastolo. Mario Draghi avverte i paesi dell'Eurozona, è arrivato il momento di agire, fare ordine sui conti pubblici senza aspettare che la crescita riduca gradualmente il debito. Il presidente della BCE definisce inoltre robusta la crescita dell'Eurozona che però necessita ancora di aiuti sulle imprese italiane. Draghi sottolina che il calo dei debiti si avvicina a quello del periodo precrisi. La Consob ha sospeso oggi i titoli Carige. Nel documento dell'autorità di vigilanza si legge che la decisione è stata presa a seguito della mancata firma garanzia dell'aumento di capitale per 560 milioni di euro in agenda ieri e della conseguenza e mancata di formazioni certe sul futuro dell'Istituto Bancario Ligure. Con il titolo sospeso c'è tempo fino a lunedì per costituire il consorzio di garanzia dell'aumento. Saremo noi a governare? Io farò la punta o, se non sarò candidabile, l'allenatore? Così Silvio Berlusconi che non ha dubbi sulla rincorsa vincente del centro-destra a meno di quattro mesi dal voto. Nel centro-sinistra intanto continuano le trattative per trovare un'unità. L'approvazione entro fine legislatura di provvedimenti in materia di ius soli e biotestamento potrebbe essere determinante. Dopo la manifestazione antimafia svolta ieri a Ostia, nella notte è stato bruciato il portone del circolo PD. La procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di incendio doloso. La sindaca Virginia Raggi ripete, la mafia c'è, dobbiamo riaffermare la presenza delle istituzioni. Deciso il trasferimento di Roberto Spada nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. Ne parleremo in Etigi Cronac. Il re Saudita Salman sarebbe pronto ad abdicare, forse già la prossima settimana, al suo posto il figlio, 32enne, Mohamed, che avrebbe così vinto la lotta interna alla famiglia. In Iraq intanto le forze della coalizione annunciano che la fine dell'Isis è prossima, dopo la liberazione di Rawah, una delle ultime aree in Iraq, in mano al Califà. Buongiorno dalla telegiornale della Sette, dunque lo avete sentito in apertura. Parliamo della morte di Totò Rina, il capo dei capi, il capo di Cosa Nostra. È deceduto nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma questa notte, era in coma. Nei giorni scorsi aveva subito due interventi. Ieri il guardasigili, il ministro della giustizia Orlando, aveva consentito alla visita dei familiari, una visita che per motivi contingenti e tempistiche non è stato possibile effettuare. Partiamo da qui. Il signor Bartolo, alias di Totò Rina, nelle cartelle cliniche dell'ospedale di Parma, cardiopatico, malato di tumore arene alla prostata, un'infezione al fegato e un decadimento cognitivo, allettato e incapace di restare da mesi seduto, è morto alle 3.37 nel reparto di terapia intensiva. Da un giorno aveva compiuto 87 anni, era in coma farmacologico sedato, nell'ultima settimana l'avevano operato due volte. I magistrati, considerato che la fine è arrivata in stato di detenzione, Rina era sempre al 41 bis, hanno disposto l'autopsia, il corpo è custodito nell'istituto di medicina legale dell'ospedale. Non è chiaro quali familiari lo abbiano raggiunto e se siano riusciti a vederlo prima che morisse. Ieri il Ministero della Giustizia aveva dato un'autorizzazione straordinaria ai parenti per incontrarlo, un colloquio straordinario che Rina non avrebbe potuto comunque sostenere. La figlia, Maria Concetta, stamattina ha postato su Facebook il volto di una donna su uno sfondo nero, il dito sulla bocca a indicare silenzio. Il figlio, Salvatore, che ha scontato una condanna a otto anni per associazione mafiosa, ieri lo ha salutato così sempre su Facebook. Per me tu non sei, Totò Rina, sei il mio papà. In questo giorno triste ma importante ti auguro buon compleanno, ti voglio bene, tuo salvo. Non ci sono ancora indicazioni sui funerali. È probabile che si terranno un giorno della prossima settimana in Sicilia, all'alba, al cimitero, in forma privata. Il portavoce della CEI, la conferenza episcopale, ha escluso la possibilità di un funerale pubblico. Si valuterà la presenza di un sacerdote che accompagni la salma con un momento di preghiera. Il ministro della giustizia, Orlando, ha commentato La morte di Rina non ci induca ad abbassare la guardia. Il presidente del Senato, Grasso, la morte di Rina accenderà nuovi problemi all'interno di Cosa Nostra per la successione perché finché un capo è vivo, anche se in carcere, non viene sostituito, la guardia non si è abbassata. Il fratello del giudice Borsellino, Salvatore, ci saranno tante persone che gioiranno del fatto che Rina, morendo, non potrà più parlare. Ecco, queste le prime reazioni. Di fatto al suo nome sono legati gli attacchi più clamorosi della mafia allo Stato, dagli omicidi Scaglione e Mattarella alle stragi di Capaci e via D'Amelio. C'è da dire che con la morte di Totò Rina molti segreti di quella stagione sicuramente verranno persi per sempre, non si verranno a conoscere. È morto da capo, ha detto il procuratore uscente antimafia Roberti. Nonostante appunto 24 anni di carcere duro, di 41 bis, non si è mai pentito e secondo gli inquirenti è restato lui il numero uno, il capo della mafia. La prima volta che lo abbiamo visto in faccia in carne ed ossa, quel giorno di gennaio del 93, dopo la cattura, un ugolo di carabinieri lo caricava sull'elicottero per portarlo in carcere. Basso, tarchiato, cercava di coprirsi. Prima di lui esisteva solo una vecchia foto segnaletica. Era l'uomo degli attentati di Capaci e Via D'Amelio. Era stato latitante per un quarto di secolo, latitanza impunita tra la sua Corleone e Palermo, scandita da stragi, omicidi, rapporti indicibili con la politica a partire dal suo compaesano Vito Ciancimino, sindaco democristiano e andreottiano di Palermo. Da quell'arresto sono passati altri 25 anni. Lui il boss dei boss, il capo della cupola e il contadino, semi-analfabeta, che aveva diretto la stagione delle bombe, l'uomo del bacio mai provato con Andreotti, l'autore del papello, con la lista delle richieste allo Stato scritte su un pezzo di carta, da allora è rimasto dietro le sbarre al 41 bis 26 ergassoli. Più di 300 morti sulla coscienza, nessun pentimento dal carcere ha continuato a comandare il gioco, a tirare le fila dell'organizzazione criminale. intercettato nel cortile dell'ora d'aria novembre 2013, progettava la morte del PM Nino Di Matteo. I magistrati bisognerebbe ammazzarli tutti e si vantava dell'attentato a Falcone. Gli ho fatto fare la fine del tonno. L'ultimo processo ancora in corso che lo ha visto presenziare in Barella, quello sulla trattativa Stato-mafia, imputato insieme a politici e rappresentanti delle istituzioni. Anche qui, Boss, fino all'ultimo, ha fatto scena muta. Se ne è andato, portandosi dietro i suoi segreti. Tutti i grovigli, le relazioni inconfessabili, coi presunti mandanti esterni, tutti i misteri su un pezzo di storia criminale d'Italia. Per gli inquirenti è rimasto, fino all'ultimo, il capo formale indiscusso di Cosa Nostra. Ora si apre la corsa, la successione. Cosa Nostra attraversa una fase di inedita e pericolosa transizione. Hanno dichiarato ieri a Palermo gli investigatori. La mafia non è morta con Riina. Lo scettro nero del comando potrebbe passare a Matteo Messina Denaro, l'ultimo dei grandi latitanti. Il boss della modernità dell'era nuova, il padrino di Castelvetrano, che avrebbe proseguito nel progetto stragista di Riina e condiviso tanti dei suoi segreti. Parliamo adesso d'economia, perché ci sono due concetti soprattutto espressi oggi dal Presidente della BCE, Mario Draghi, da Francoforte, che vanno sottolineati. La prima è la percezione, come ha detto Draghi, che la ripresa dell'eurozona sia robusta, ma non ancora tale da poter consentire che la ripresa dell'inflazione possa camminare in maniera autosufficiente senza quella che è stata la politica definita accomodante, insomma di accompagnamento fatta apposta dalla BCE in questo senso. L'altro concetto è quello di fare ordine in casa propria, riferito ai paesi dell'eurozona, per quanto riguarda i conti pubblici, la riduzione del debito, perché non si può aspettare che questo avvenga solamente grazie a una crescita che sì c'è, ma non velocissima. Ripresa robusta, ma inflazione non autosufficiente, e allora prudenza. E lavorare sodo per mettere i conti in ordine. Mario Draghi, aprendo il congresso bancario europeo, da Francoforte dalla linea alla finanza e alle banche nazionali dell'eurozona. Abbiamo fiducia nella tendenza al miglioramento in atto, ha detto il Presidente della BCE, però ancora una volta i dati ci dicono che senza la nostra politica accomodante, leggi quantitative easing, il tasso dell'inflazione non ce la farebbe a spingere il motore della ripresa. L'ennesimo messaggio di ottimismo con riserve che il capo della Banca Centrale Europea rivolge soprattutto ai governi. Approfittate del momento buono per sanare i bilanci e non pensiate che basti la crescita a ridurre il debito e a farci uscire definitivamente dalla crisi. Le tabelle di Draghi parlano coi fatti, i consumi sostengono il rilancio economico nonostante il petrolio, aumentato negli ultimi 24 mesi di 30 dollari al barile. Vuol dire che il meccanismo in atto è sano e si basa su crescita di salari e occupazione. Nell'area dell'euro il debito societario lordo è tornato grosso modo al suo livello pre-crisi. Poi c'è l'occupazione, siamo al livello più alto di sempre con la disoccupazione mai così bassa dal 2009. Il tasso di impegno sul lavoro è salito grazie all'aumento dell'ingresso delle donne nella forza lavoro e del ruolo delle persone anziane che dall'inizio della crisi hanno incrementato fortemente la loro partecipazione. Nota dolente però per i paesi come l'Italia dove la disoccupazione giovanile è da record europeo. Senza crescita economica e gli investimenti per la creazione di posti di lavoro non ci sarà mai una reale equità ha detto il premier Paolo Gentiloni al social summit di Göteborg. In questo senso il bilanciamento dei diritti dei giovani e degli anziani è una questione chiave in Italia ha ricordato il presidente del Consiglio abbiamo perso un milione di posti di lavoro tra il 2010 e il 2013 e ha avuto più o meno un milione di nuovi posti di lavoro dal 2014 al 2017. Secondo indiscrezioni di agenzia la Commissione europea sarebbe pronta a inserire l'Italia nei paesi dell'Unione europea a rischio di non conformità con quelle che sono le regole e le normative del patto di stabilità. Lo sapremo con certezza mercoledì giorno in quale arriverà anche la lettera sulla nostra manovra. Intanto parliamo di banche della crisi del gruppo Carige sospesa oggi da Consob in quelle che sono le negoziazioni del titolo in borsa dopo che ieri il vicepresidente non ha firmato l'impegno di ricapitalizzazione e si è andato a scontrare con quelle che sono le tre banche che compongono il consorzio di garanzia dell'istituto. Sono ore decisive per il salvataggio di banca Carige alle prese con un aumento di capitale da 560 milioni. Operazione a rischio dopo che per contrasti con il primo azionista Malacalsa investimenti giovedì scorso il consorzio di garanzia ha fatto mancare le proprie firme. Nel frattempo Padoan ha smentito di aver parlato con il quotidiano La Stampa di un rischio risoluzione lunedì prossimo per la banca avvertendo che l'Italia non può permettersi un'altra crisi. Così, mentre la banca centrale europea preme perché lo storico istituto di credito simbolo di Genova venga ricapitalizzato entro fine anno dalle 9.30 di stamani è in corso un nuovo consiglio di amministrazione straordinario per valutare i prossimi passi dopo quello fiume di ieri. Come era accaduto a dicembre 2016 per Montepaschi Siena oggi una delibera della Commissione Nazionale per le società e la borsa Consob sospende i titoli carige dalle contrattazioni a piazza affari. L'attuale contesto informativo si legge nel documento non garantisce la trasparenza l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori in ragione dell'incertezza in merito all'operazione di aumento di capitale. La sospensione temporanea proseguirà fino a quando non sarà rifristinato un corretto quadro informativo sui titoli emessi o garantiti da carige. Il 26 ottobre Malacalsa Investimenti ha presentato a Banca Centrale Europea la richiesta per salire dall'attuale 17,59 al 28% nel capitale dell'istituto di credito Ligure. In una nota la holding della famiglia Malacalsa conferma la propria attitudine al sostegno di carige nell'interesse della banca del territorio e dell'azionariato tutto ma chiarisce che tale disponibilità non può tradursi in un'impropria supplenza della funzione del consorzio di garanzia. L'amministratore delegato Paolo Fiorentino non si arrende e prosegue i colloqui con Deutsche Bank Credit Suisse e Berkley's le tre banche del consorzio per verificare che ci siano i presupposti per continuare il piano di risanamento presentato il 3 luglio ed eventualmente prorogarne i termini. Il caso Genova allarma la politica nazionale proprio mentre il settore ha cominciato a riaversi dalle crisi bancarie che hanno coinvolto Etruria Marche Ferrara Chieti le due venete e la più antica del mondo Montepaschi Siena nuovi segnali negativi lo scuotono. Oltre che dalle scelte della grande famiglia di imprenditori guidata da Vittorio Malacalza il futuro di Carige dipende dalle tre grandi istituzioni finanziarie Generali Intesa ed Unipol esposte per un totale di 60 milioni. Entro lunedì il consorzio di garanzia dell'aumento potrebbe essere costituito grazie all'impegno di tutti a trovare una soluzione. La politica adesso partendo da un Berlusconi a tutto campo che definisce il perimetro del centro-destra con il suo no agli alfagnani definiti ormai ininfluenti e il no alle ambizioni di leadership da parte di Salvini. Il ruolo dipenderà dalla corte di Strasburgo ma lui in campo ci sarà ancora. Siglio Berlusconi non ribadisce a porta a porta farò la punta se sarò candidabile se non farò l'allenatore questione legata al ricorso del Cavaliere contro la sua decadenza da senatore e l'incandidabilità sancite dalla legge Severino per effetto della condanna definitiva per frode fiscale. La sentenza potrebbe non arrivare in tempo utile per le elezioni che Berlusconi preferirebbe a maggio e accorpate in un unico election day con regionali e comunali ma di un passo indietro di lato il fondatore di Forza Italia non ha alcuna intenzione. Non ho difetti sono praticamente perfetto dice e rivendica il suo impegno per garantire agli italiani democrazia libertà e giustizia deciso a presentare la squadra di governo del centro-destra prima del voto. Vinceremo con una forte maggioranza con questa legge elettorale possiamo averla raggiungendo il 40% garantisce. Il Cavaliere definisce il perimetro del centro-destra e i rapporti di forza nella coalizione. Porte chiuse ad alternativa popolare di Angelino Alfano sono sotto l'1% sono ininfluenti e non possiamo riprenderli dopo che hanno tradito la fiducia degli elettori passando dall'altra parte taglia corto. Alleanza salda invece con Lega e Fratelli d'Italia. Matteo Salvini comunica in modo forse troppo prorompente ma tratta con buonsenso non siamo concorrenti ma alleati spiega ma alza un muro davanti alle ambizioni di leadership del segretario del Carroccio che come la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni chiede di aprire il confronto sul candidato premier magari con le primarie. La Lega prenderà molti meno voti di Forza Italia non può esprimere il premier ribadisce Berlusconi quanto ai candidati del maggioritario la ripartizione tra alleati secondo il Cavaliere deve avvenire basandosi su una media degli ultimi sondaggi ma sceglieremo il migliore per ciascun collegio assicuro. Nessun attacco a Matteo Renzi dopo la sconfitta alle regionali siciliane non gioisco dei momenti negativi degli altri leader si limite a commentare con fair play Berlusconi è invece duro con i 5 stelle sono incapaci nel governo non hanno mai lavorato e vogliono un aumento delle imposte da pauperisti veri. Ieri il Papa sul fine vita ha detto evitare l'accanimento terapeutico non è eutanasia e ha riaperto un tema che la politica aveva parcheggiato in Senato quello appunto del provvedimento sul biotestamento biotestamento i ussoli che adesso possono diventare le chiavi nel centro-sinistra per aprire al dialogo proprio con l'ala bersaniana Ricordate la famosa tenda quella che Prodi dopo aver piantato vicino al PD aveva detto non solo di aver perduto ma anche di non aver nemmeno più la ricevuta degli oggetti smarriti ecco quella tenda lì è diventata un po' il simbolo di tutti i tormenti di tutte le intermittenze esistenziali del centro-sinistra dentro ci sono non solo parole come inclusione come unità ci sono anche possibili ricette per arrivarci più che il biotestamento a questo punto più indigesto alla parte cattolica del PD che allo stesso Papa ieri ha colpito il silenzio del partito all'apertura fatta dal pontefice su questo tema sul quale spingono invece Fratoianne e Laboldrini una riflessione importante che tutti dovremmo tenere a mente dice la Presidente della Camera in ballo c'è lo Iussoli giudicato a parole una legge di civiltà ma rimasto finora lettera morta le stesse ragioni di opportunità che finora ne hanno impedito lo sbarchi in aula potrebbero però anche consigliare a questo punto di fronte all'evidente deficit di coesione del centro-sinistra un'accelerazione tattica al di là del diplomatico commento pronunciato da quel fassino incaricato da Renzi di unire le tante anime in uno stesso nocciolo incontro molto positivo Prodi condivide la nostra strategia ha detto l'ex segretario PD dopo l'incontro avuto con Prodi a lasciare aperto qualche spiraglio e semmai Arturo Parisi il quale sul Corriere della Sera assicura che Prodi la mano sta continuando a darla in modo discreto e indiscreto con l'obiettivo di sempre ricostruire un campo di centro il più largo e unito possibile un campo nel quale fa capire Parisi potrebbe anche non figurare MDP di Iussoli Parisi non parla in compenso lo fanno stamattina sia del Rio che Orlando approvare lo Iussoli sarà un nuovo tassella alla modernità e alla civiltà del paese dichiara il primo mentre il secondo lo ritiene un obiettivo assolutamente importante che dobbiamo portare a casa in questa legislatura erano gli stessi del Rio e Orlando che non avevano nascosto perplessità sulla politica dei migranti adottata dal collega Miniti quella tornata di attualità con lo scioccante filmato della CNN sulla vendita dei nuovi schiavi in Libia diventata ora all'opposto dello Iussoli scottante materia divisiva correnzi costretti a muoversi in una terra di mezzo tra chi chiede un cambio di rotta e chi come Miniti e Gentiloni vuole andare avanti così su questo terreno parole come inclusione e campo largo non sono contemplate andiamo adesso in Arabia Saudita gli esteri perché il re Salman sembra che stia per abdicare già la prossima settimana potrebbe salire al trono il figlio Mohamed colui che a inizio mese ha purgato molti notabili del regno a lui ostili e che continuerà ancor più dal re in quella che è la sua politica contro l'Iran già la prossima settimana le dimissioni del monarca dell'Arabia Saudita Re Salman sarebbero ormai imminenti lo riporta il Daily Mail che cita fonti della Casa Reale la guida ufficiale del paese passa definitivamente nelle mani del figlio Mohamed bin Salman il quale si prepara all'evento già da prima della sua nomina principe ereditario con un'ascesa non priva di intrighi e defenestrazioni dei molti candidati capaci di infastidirlo Mohamed bin Salman da inizio novembre ha infatti ordinato l'arresto di oltre 40 principi e ministri del governo nell'ambito di quella che è stata presentata come un'inchiesta sulla corruzione ma che è servita ad accorpare sotto il suo controllo tutte le funzioni necessarie a guidare lo Stato l'ultima a finire nelle sue mani è stata la Guardia Nazionale fino a pochi giorni fa ancora sotto il comando del potente Mida Abid Abdullah il principe ereditario è considerato l'ideologo di Vision 2030 il progetto politico ed economico di sviluppo futuro dell'Arabia nel quale si prospetta un paese meno dipendente dalle esclusive entrate del petrolio e leader di un Islam moderato piano contrastato da molte delle forze vaabite legate ad una visione oltransista dell'Islam e vicine ai gruppi che finanziano il terrorismo internazionale di matrice islamica proprio in politica estera l'obiettivo del nuovo re è delineato da tempo ridimensionare la forte espansione dell'Iran faro dell'Islam Shita in corso tra le due potenze regionali c'è già una guerra che si combatte per procura in diversi stati su tutti lo Yemen ieri in base a quanto riportato dal quotidiano saudita El Af bin Salman avrebbe inoltre allacciato i prodromi di un'alleanza che non ha precedenti in un'intervista anche questa del tutto inedita il capo di stato maggiore israeliano Gadi Eisenkot ha rivelato che Israele è pronta a scambiare informazioni comprese quelle di intelligence con i paesi arabi moderati per affrontare l'Iran sottolineando inoltre che ci sono molti interessi condivisi tra Jerusalem e Riyadh tra le quali ufficialmente ancora non esistono relazioni diplomatiche allora dopo la Siria anche l'Iraq è stato praticamente quasi completamente riconquistato dalle truppe regolari le forze irachiane hanno infatti ripreso questa mattina anche il controllo della città di confine di Rawa l'ultima nelle mani dello stato islamico sancendo così la sconfitta dell'autoproclamato califato Rawa si trova al confine con la Siria l'esercito ha dichiarato la vittoria sugli estremisti islamici lo scorso 9 novembre appunto in Siria i giorni del falso califato stanno per finire lo ha commentato l'inviato degli Stati Uniti presso la coalizione Brett McGarck facendo notare che il sedicente Stato Islamico controllava un'area grande quasi come la Gran Bretagna adesso parliamo di calcio alla fine di una settimana che passerà alla storia per la delusione della nostra nazionale che non parteciperà ai mondiali vedremo quali sono i riflessi sul campionato che domani torna con due partite importantissime quale sarà il colore dominante del campionato che eredita l'azzurro plumbe o della nazionale è un quesito interessante perché tante sono le sfumature racchiuse in una vasta gamma di tonalità che potrebbero descrivere gli stati d'animo dei reduci dalla disfatta i club diventano la dolce casa dove smaltire la delusione e la rabbia che hanno segnato i volti e il morale dei protagonisti più autorevoli il futuro è affidato all'ostinazione di un tavecchio autoreferenziale che lunedì nel consiglio della Federcalcio cercherà di giocarsi al meglio la propaganda che poggia sul corteggiamento a Carlo Ancelotti il profilo migliore le riforme quelle vere e necessarie sono un'altra cosa ma danno meno visibilità il presente parla di una Serie A che in questo contesto disgregato torna domani con una sensazione che sta prendendo consistenza ci potrebbe essere qualche variabile legata ai bioritmi di quei calciatori particolarmente spremuti nella testa e nelle gambe la cartina di Tornasole si avrà con il derby di Roma emblematico perché racchiude tante storie Daniele De Rossi al passo d'addio con l'Italia Florenzi che ha ritrovato l'Azzurro dopo i tormenti fisici e il Sharawi snobbato d'avventura e motivato dal tecnico romanista Giacomo insegna il campionato dal primo ottobre sull'altra sponda ci sono parole immobile che hanno giocato 180 minuti e potrebbero risentirne in particolare il centro amati che convive da settimane con l'affaticamento alla coscia per lui come per Nainggolan le ultime ore saranno decisive per una maglia da titolare Di Francesco e Inzaghi volano d'alta quota il primo al debutto come allenatore nella stracittadina deve arginare l'abilità tattica dimostrata dal collega nella passata stagione sarà il primo derby senza Totti sul lato anticipo del sabato Napoli-Milan la curiosità sarà indirizzata soprattutto sulla prestazione di Insigne protagonista con 57 gare consecutive e non con primario per la follia di Ventura per contenerlo Montella sta pensando ad un correttivo la copiata Bonucci-Abbate sulla destra sarà una domenica indecifrabile per il blocco dei campioni giuventini feriti nell'orgoglio che però vogliono ancora ruggire in bianco-nero ma sarà molto dura a Genova contro una Sampdoria inarrestabile in casa per ultima si esibirà l'Inter che la seconda consecutiva a San Siro contro l'Atalanta vuole dimenticare l'amarezza partita con il Torino adesso c'è Crona che con Caterina Bizzari si ripartirà dai fatti di Ostia grazie per averci seguito e ci rivediamo domani grazie per averci seguito